Buongiorno cari amici di Spazio 50. Siamo qua oggi al quarto appuntamento, al nostro quarto incontro, nel corso per quale approfondiremo le emozioni del momento, attivate dalle notizie, in questo momento particolarmente atteso della ripartenza di questa fase 2, ancora per molti aspetti poco definita, ma che ci fa riflettere sull'ulteriore richiesta che ci viene fatta, cioè quella di mantenere il timone saldamente nelle mani per governare la rotta di navigazione. Negli incontri precedenti ci siamo nella prima parte soprattutto molto soffermati sulla tematica del trascorrere il tempo, come passare il tempo, perché improvvisamente ci siamo trovati nella condizione di stare chiusi in casa e quindi a dover riprogettare il nostro quotidiano. Poi ci siamo lentamente adattati nel corso delle settimane successive. Ci siamo resi conto, anche sulla base del sondaggio che Spazio 50 ha realizzato, che forse la categoria dei più grandi è quella che, meglio di altre fasce di età, è riuscita a rendersi conto di dove andava la navigazione e quindi a fare rotta sul punto giusto. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e forse fantasticamente abbiamo ritenuto che con maggio, con questo famigerato 4 maggio, la struttura organizzativa del nostro mondo sociale avrebbe avuto una svolta definitiva. Qualcuno ha pensato addirittura di tornare a festeggiare per la strada. Bene, non è così. Ed è su questo punto che dobbiamo probabilmente fare delle riflessioni ulteriori che sono finalizzate poi a sostenere e confermare un dato. In una chiacchierata precedente si era parlato di questo kit degli strumenti, la borsa degli strumenti che la vita ci ha aiutato ad affinare, ad inventare, per dare le risposte le più diverse alle evenienze che nel quotidiano la vita stessa ci metteva dinanzi. E su questo tema voglio trasmettervi il racconto di un ricordo così come ho fatto con la nostra Giuseppina di 102 anni la volta scorsa, vi voglio raccontare un'altra storia che indubbiamente conferma la grande capacità di saper dare risposte, risposte definitive ai dequisiti incredibili. E gli anziani, o i più grandi, o i più maturi? Qui poi si apre tutta una lunga disquisizione su quelli che possono essere i termini più adatti e più graditi a definire una certa fascia di età. Ma non entriamo adesso in questo. quello che voglio ricordare a questo punto è come all'inizio ci è piombata addosso una vicenda incredibile che ci ha condizionato a dover dare risposte improvvisamente e quindi a mutare il corso delle nostre abitudini. Ora, sebbene con qualche incertezza, ma comunque nuovamente dovremo riadattarci a nuovi schemi. E qui mi viene proprio il collegamento con questa condizione nel nostro deambulare normale. Ad un certo punto per una vicenda cominciamo a correre per fuggire per esempio da qualcosa, quindi che fisicamente cosa accade? Accade che spostiamo il nostro baricentro in avanti per poi mantenere comunque una postura corretta e un equilibrio. All'improvviso un ostacolo si frappone alla nostra corsa, in questo esempio ideale, per cui siamo costretti ad arrestarci improvvisamente. Quindi il nostro baricentro oscilla paurosamente all'indietro e per controllare la corretta postura siamo costretti a mettere in moto degli automatismi motori che ci consentono di mantenere la posizione eretta. Bene, questo esempio per dire cosa? Che c'è una malattia, il morlo di Parkinson, oggi curabilissimo e con successo strevitoso, in cui questo aspetto del baricentro che si modifica e che è difficile controllare, con i farmaci ciò è possibile in maniera eccellente, ma tutto ciò comporta per il Parkinsoniano delle difficoltà adattative. Bene, è un po' quello che ci sta capitando da un punto di vista non squisitamente motorio, ma da un punto di vista psichico in senso generale, nell'ambito anche degli affetti, anche delle nostre manifestazioni. È un baricentro che era spostato sul fatto che la carezza, il sorriso, l'abbraccio, il bacio, tipiche espressioni di una affettività individuale trasmessa, ma che spostata sui grandi numeri, è la manifestazione sociale e affettiva tipica dell'uomo. Bene, quindi da strumenti di vita improvvisamente il cambio di passo ci ha imposto di etichettare queste manifestazioni come strumenti pericolosi, da evitare, perché strumenti minacciosi per la diffusione del contagio del virus, strumenti di malattia, se non addirittura di morte. Quindi abbiamo dovuto fare un forte adattamento all'una da una situazione drammaticamente all'altra. Ora l'auspicio è quello di riprendere, di riattribuire il corretto significato a queste manifestazioni di vivo affettivo, ma anche questo sarà realizzato attraverso un percorso di lento adattamento e di tutto sommato guardinga, diffidenza. Sarà un po' la nostra maturità. Ma tornando alla capacità che i grandi anziani, più di altri, messi di fronte a improvvise evidenze, reagiscono nei modi più disparati, ma il racconto di Adriana merita di essere un po' trasferito, perché fa parte un po' della letteratura, delle risposte possibili che le persone e in questo caso gli anziani o i grandi anziani sono capaci di dare. Dicevo Adriana, nome di convenienza, anni 82, arriva in ospedale per una visita ambulatoriale accompagnata dalle figlie. La mamma ormai, raccontano, è qualche tempo che dimentica le cose, si muove in modo scomposto in casa, quando parla e racconta del suo quotidiano, va di bene, vive da sola ed è in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, compresa la spesa, ma nelle ultime settimane, negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Rivolgendomi direttamente ad Adriana, chiedo a lei dettagli su questa condizione e mi racconta che si sente completamente immabolata, con la testa confusa e la difficoltà a mettere in fila le cose, al punto da sentirsi ormai instupidita. Adriana con le figlie sono giunte già con una risonanza magnetica del cervello, dimostrativa della presenza di un voluminoso meningioma, un tumore benigno, a lentissima crescita, che però era arrivato alle dimensioni di circa una grossa arancia. E quindi la proposta chirurgica consentiva l'effettuazione dell'intervento perché le condizioni biologiche generali della paziente erano sicuramente soddisfacenti e quindi quando vado a chiedere il consenso definitivo alla paziente lei mi guarda e mi dice nella mia vita malattie importanti non ne ho avute. Ho vissuto sempre bene, ho queste due figlie, i nipoti, è la prima volta che mi capita di dover prendere di petto una decisione così grande ed immaginate per una persona di 82 anni immaginare che, spiegavo la tipologia dell'intervento, aprire la testa da tutte e due le parti a livello frontale, togliere il meningioma e richiudere tutto e ritornare come prima, beh può essere sicuramente una narrazione di una particolare complessità. Ma mi colpì la risposta ed è questa che vi voglio trasferire. Mi guardò intensamente negli occhi e mi disse guardi che tanto una volta se deve morire. Se io oggi devo affrontare questo tipo di problema lo affronto, le do il consenso perché sentirmi così non è vita e quindi corro i rischi di quello che potrebbe anche essere qualcosa di particolarmente sgradevole se non un falso risultato. Le cose andarono bene, fu fatto un intervento, dopo un paio di giorni di tempestoso decorso post-operatorio la paziente si è ripresa e dopo diversi giorni tornò al proprio domicilio. al controllo ambulatoriale si presentò molto ben vestita, anche un po' particolarmente curata, quindi in una condizione di recupero pieno. Perché questo racconto? Per dire che la capacità di risposta, questo è l'esempio ancora di un grande anziano, 82enne, che la capacità di risposta e di saper affrontare le situazioni più problematiche, più difficili, ci riguarda anche oggi. Quindi il richiamo e l'invito a tutti noi di continuare a tenere veramente il baricentro in asse, mantenere la calma, seguire gradualmente l'evoluzione delle cose, adattarsi sempre alla gradualità della ripresa, perché sicuramente il successo sarà garantito. Quanto più saremo capaci di governare, di tenere a bada la paura, il timore delle cose terribili e di quanto più difficilmente possiamo essere in grado di governare, questo teniamolo fuori di noi. Credo di dover concludere a questo punto, invitandovi nuovamente a queste riflessioni e in attesa di un vostro feedback e di una vostra comunicazione di aiuto alle eventuali future riflessioni. Un caro saluto, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.